Abbiamo saputo della giornata di lavoro con mister Nello di Costanzo, allora domani ci sarà la firma Ciro? Domani ci dovrebbe essere la firma, quindi diciamo l'accordo è stato trovato e quindi domani dovrebbe esserci. Giocatori di qualità arriveranno? Allora di vicino già ha filmato e quindi può considerarsi un giocatore dell'Ulizia, Merino stiamo valutando un po' la condizione fisica, se dovesse convincerci sicuramente filmerà anche Merino. Però vedendo questi giocatori in entrata e quelli in uscita secondo me Lischia perde un po' di qualità perché Zillo ha fatto bene, Patti pure, Mancino all'inizio è stato determinante. Arrivano in effetti di vicino che non sappiamo come sta, Merino pure, Sirigu prende il posto di Patti, Spezzani al momento non è ancora rodato al meglio. Diciamo sì, noi analizziamo la partita di domenica scorsa e quella di l'altro ieri, penso che Spezzani abbia dato un buon contributo alla squadra. Quindi non ha il ritmo dei 90 minuti ma sicuramente è un gran bel giocatore. Senti ma la società deve dare un contributo anche di portafogli importante perché Lischia può sì avere un buon allenatore con Nello di Costanzo, però se non ci sono i giocatori che corrono in mezzo al campo e danno qualità è difficile trovare la salvezza. Diciamo che la società si rilasci in questi giorni, poi mi darà le indicazioni, a seconda le indicazioni che mi darà la società io mi muoverò. Giocatori ce ne sono tanti, soldi vediamo quando ce ne saranno. Uno dei motivi per cui vanno via questi calciatori è anche perché è stato ridotto lo stipendio a questi calciatori? No, non è stato ridotto nessun stipendio. Nessuno stipendio a nessuno? Al momento, poi se domani... Io sapevo che fino al 16 gennaio si pagavano gli stipendi secondo contratto, poi si voleva ridimensionare tutto il budget. Il contratto si può pagare anche entro il 16 febbraio, quindi non è il 16 gennaio. Quindi se qualcuno ha detto queste cose, non ha detto una sciocchietta, ma non ha detto tutta la verità. Per quanto riguarda Fall, com'è la situazione anche Orlando? Fall dovrebbe entrare a far parte della squadra a fine mese. Anche lui, anche essendo infortunato, ha delle richieste, quindi... Quindi ha delle richieste, a fine mese dovrebbe entrare. Orlando? Orlando penso che la prossima settimana sarà disponibile per la squadra. Mancino e Meduri secondo me alla fine vanno via. Sì, senz'altro. Tu pensi che vadano via anche loro, eh? Sì. Sì.